dagli asparagi raccolti in campagna selezioniamo solo le punte in questo modo e mettiamoli in padella aggiungiamo 3 cucchiai di olio mezza cipolla aggiungiamo un pizzico di sale chiudiamo la padella con il coperchio mettiamo sul fuoco e lasciamo rosolare a fuoco lento ricordando di mescolare di tanto in tanto dopo circa 5 minuti i nostri asparagi si presentano così sono cotti spegniamo il fornello mettiamo il coperchio e lasciamo riposare fino a quando la pasta è pronta cuciniamo la pasta separatamente fino a cottura desiderata quando scoliamo la pasta facciamo attenzione a conservare il suo amido ci servirà dopo aggiungiamo la pasta cotta separatamente agli asparagi precotti prima aggiungiamo una punta di coltello di burro 3 cucchiai di formaggio possibilmente pecorino un po di amido della pasta e mescoliamo tutto insieme lasciamo amalgamare per due minuti circa mettiamo nei piatti e serviamo a tavola buon appetito